allora sicuro ci deve andare lì qua ha fatto capire il gioco ottimo questo è sicuramente perchè c'è qualcosa di più dove i nostri missili non basteranno molto probabilmente mi stava cadendo tutto scusate ragazzi allora si ci piace e mo questa roba che caspita eh cataris ah praticamente questo ci dice dove andare ah no non ci dice dove andare questo è un teletrasport mmm no voglio prima vedere una roba di sicuro c'è qualcosa che possiamo fare qua quello che non tengo manca una bomba a warfare non posso vedere questa cosa ah ma vabbè no siamo niente siamo costretti a usare quel teletrasport non 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 si ma quanto lungo sto caricamento dai ok allora siamo tornati effettivamente in un posto che avevamo già visto questo cosa qua questo cosa qua ah beh la solita staglia che ci ricarica bene così io a questo punto devo fare una esperienza no devo costringermi a vedere una cosa no non si può non ce la fa Samus fisicamente ah scemo dai Samus prendiamoci sti cosi allora lì c'è un simbolo che sicuramente potrebbe essere la bomba a morfosfera a sto punto dove possiamo andare possiamo andare lì ok modulo energia raccogli ah ecco è un po' come zero dobbiamo raccogliarne un po' non ah 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 ci sono già stato ah se la logica mi aiuta teoricamente questo è un coso per il supermissile quindi non possiamo fare di nulla ci si va in un altro modo come ci si va ok va bene aspetta via da qua via da qua la miseria ma che simpatici vabbè sta roba ciozzo era fatta in cina probabilmente miseria vabbè qua serve il solito fascio d'aggancio che non abbiamo vabbè lì non ci serve perché non abbiamo ancora la varia suite quindi si cà spero ecco la varia suite ok vabbè la chiamano termotuta che poi varia suite è uscito fuori per un difetto di calligrafia doveva essere barrier suite e invece probabilmente perché in giappone pronunciano la bidiversamento che caspita ne so hanno chiamato varia vabbè soltanto una decorazione stavo facendo il pensiero che potesse esserci nascosto qualcosa abbiamo visto che non praticamente non si lumia per nulla ma al massimo potrebbe esserci qualcosa qui ok ok io non so perché ma sono sicuro che qua non ci posso andare infatti ci potrei anche andare ma rischierei tantissimo e ora non sono al pieno la forza per ritornare a qua bisogna questa è la zona che abbiamo visitato praticamente ora possiamo controllare tutta perché non abbiamo più questo problema del calore siamo tornati qua praticamente però ora possiamo andare nelle zone calde abbiamo la varia suite bello bello è strutturato bene il gameplay dai madonna praticamente lo stato di trasporto non ci serve più perché cioè guardate no nulla cioè no no nulla praticamente non si può più scendere qui vabbè vabbè vai andiamo per l'idea che abbiamo preso cioè adesso abbiamo la varia suite possiamo andare nella zone calda qui andiamo qui a presto Grazie. Ragazzi, ci stiamo avvicinando a qualcosa di parecchio grosso. Io so cos'è. Anche perché ce l'hanno praticamente spoilerato nei trailer. Guarda le scatole. 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 Mi sto frascendo io il D. Perché penso sempre che ci possono essere i DC Brick. E non ci sono. A meno per il momento. Guarda le scatole. 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 si è come pensavo si è lui, è lui Fields con la palla proprio ma baffanculo grande bello che Samus se ne sbacca e lo provoca allora non ho ancora capito non ho capito e' un po' varo di energia però e' sto mastardo allora stare fermi non fa bene quello l'ho capito io mi sto fossilizzando che devo stare fermi non ho capito non ho capito e' un po' varo di energia e' una cosa 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 a ma miseria però tanto sei bastardo oh no quanta immondizia butti a miseria non è difficile solo che ovviamente mi sto facendo fregare io come un cretino allora gli artigli che non stanno dando tanto queste palline qua danno un po' di energia mentre gli artigli no la miseria ah un po' andiamo sul secondo me è un po' esagerato a provocarlo e vabbè però ovviamente da capo sembra giusto però qui si però qui praticamente esce fuori quella cosa che ho detto l'altra volta cioè che non aver cercato troppi potenzialmente di starli versando contro di me perché ora mi ritrovo un po' sguarnito di roba e non posso proteggermi come vorrei a me ma sto stronzo è imparato i passi no ho capito e e e e e Oh, stupi. Vabbè vero Quanta roba Non posso manco toccare grade Allora mi tocca fare una run bella pulita fino alla fine Se no non arrivo arrivo con pochissima energia lì e mi fa sempre il culo a strisce Allora mi tocca Allora mi tocca Ok Quanta schifezza butti però Poi lui non ma Eh Mo' inizia a lanciare pure i cartigli Oh Madonna È un po' un parto sto cosa però eh Allora Quello crede di solito era un boss facile della saga di metroid Scusate raga mi è caduto il microfono con tutta la roba Allora Allora di solito crede era un boss Scusate Macello mezzo macello In corso sempre le cose sempre in registrazione Vabbè Allora di solito crede è un boss facile della saga di metroid Non è così comple Non ha tutte queste particolarità Evidentemente per ammodernizzarlo L'hanno reso un po' più ostico del solito Si può fare comunque non è impossibile Basta solo imparare le pacche Basta solo imparare le pacche Ok Olè Quanto cazzo che scende quella schiatta forma di muro Deveva arrivare a sapuoco Mi sono spargato da solo Mi sono spargato da solo Vabbè Ma perchè lo sospettavo Guarda Per chi lo sospettavo Per chi lo sospettavo Per chi lo sospettavo Per chi lo sospettavo Io sono scemo ma perchè non mi abbasso E' vero Oh è andata Vado No No ma secondo me ancora non è finita Non è possibile Ma che stadi No vabbè No vabbè credo Che caspita fai Hai fatto la fine di Crocomire Ma che davvero Raga Io penso di aver capito cosa ci da Allora Se tanto mi da tanto Quello è il potenziamento bomba morta asfera Ragio di fusione Ragio di fusione No allora ho sbagliato tutto tutto Questa è un'altra roba Ragio di fusione Ah che cosa è Ok Ok Quindi quei blocchi viola Non era per la bomba morfosfera Era per questo E quindi ora possiamo fare così Ah figo figo Aspio ma quando caspita si sblocca la bomba morfosfera E infatti non posso fregare pure questi qua Ma fregavano me Ah si voglio un attimo vedere una cosa però Aspetta un secondo siamo con calma Con molta calma Con molta calma Questa non la c'è Guarda Ma questo qui snida è da qui Cretino Ah qua servebbe Forza qualcosa che adesso c'è Guarda Andiamo di qua Come Abbando Ah 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 проблем Ah 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 Io spero sempre che mi dia il più molto più rara perchè con quelle si possono iniziare a fare i trick, adesso siamo limitati praticamente solo al salto al muro e a qualche altra rubetta niente di che, poi certo bisogna imparare a fare il bomb jumping pure con... però vabbè andiamo giù Asp, è un mortello con la seriglia Noo barca miseria che lo voglio prendere Ma non c'è po', ma non c'è po' proprio Non c'è po', ma non c'è po', ma non c'è po', ma non c'è po' proprio Uuuuh, Adam Calcamento dati in corso Questa area, Daryon, sembra un laboratorio di ricerca biologica Hai già riattivato un generatore in questa area C'è un altro settore sopra di te in cui c'è tuttora un blackout Trova il prossimo generatore e riattivalo Stai lentamente recuperando le tue abilità Non sono ancora riuscito a stabilire cosa ti sia successo fisicamente Ma non abbassare la guardia Il tuo obiettivo principale è sopravvivere Procedi con la massima cautela Va bene E' certo che salviamo, anzi mi fermo pure Grazie Grazie Grazie